Salve ragazzi, abbiamo sentito tutti su YouTube che chi comanda è quello che ha in mano il potere dei soldi, cioè la gestione dell'economia. Abbiamo sentito parlare di illuminati, queste persone che non si sa se sono umane o se sono extraterrestri. Abbiamo visto che sulle monete tipo il dollaro americano c'è una piramide con l'occhio onnisciente staccato da questa piramide, l'occhio di Ra che governa tutto come fosse staccato dai comuni mortali e questa piccola piramidina staccata sono gli alieni. Biglino ha parlato di questi alieni, ma non solo Biglino, che stanno ancora in mezzo a noi e governano il mondo in che modo? Con i soldi. Quindi io credo che la chiave per capire queste problematiche siano proprio le monete, i soldi, le banconote. Abbiamo studiato le banconote, c'è appunto questa piramide, quest'occhio di Ra, ci sono dei riferimenti a delle aquile, quindi l'aquila, anche l'aquila nazista. Ci sono vari riferimenti che potete tranquillamente trovare su internet. Ma la cosa più importante non è tanto che abbiamo questi alieni sulla Terra, secondo molti. La cosa più importante è capire da dove vengono. Biglino dice che vengono da più costellazioni, Orione, oppure Z-Reticuli, o altre che è un sistema binario, dicono che ci sono due pianeti che girano, due stelle che si girano attorno. Praticamente non si riesce a capire bene da dove vengono questi personaggi. Per caso io qualche anno fa stavo facendo un lavoro di grafica pubblicitaria e volevo scansionare con lo scanner delle monete per poi elaborarle, mettere la faccia di una persona sopra, insomma fare questa elaborazione grafica, ma nel momento in cui sono andato a mettere la moneta nello scanner, lo scanner si è inchiodato. Ho dovuto spegnere lo scanner e riaccenderlo, ho rimesso la banconota e lo scanner si è inchiodato. Sono andato a vedere perché si inchiodava e perché soprattutto, cioè per quale motivo non riuscivo a stampare neanche con i fotocopiatori, cioè neanche con la fotocopiatrice a colori si riusciva a riprodurre questa banconota. E sono arrivato a capire che le multinazionali, comandate appunto stando sotto questa piramide di questi illuminati, hanno raggiunto un accordo per non far fotocopiare i soldi. Allora avevo provato a prendere la vecchia lira, ok? La vecchia lira, ho detto ci avrà un sistema di riconoscimento, vedrà il numero, vedrà il formato di questa moneta e capirà che si tratta di moneta di soldi e non farà stampare questa moneta. Allora ho preso la lira, la vecchia lira, le 10.000 lire, le ho messe dentro lo scanner e invece quelle le stampa benissimo. Sono arrivato a capire che la lira era stampata dal nostro Stato, ma gli euro sono stati stampati da appunto la Banca Italia SPA, il dollaro pure viene stampato da una società privata. Insomma, ormai tutte le più grosse monete vengono stampate da società private, si sa, ormai il video, il web ne è pieno di questi video. Però sentendo biglino che questi illuminati che hanno il potere, perché chi ha il potere di soldi ha il potere di un paese, di uno stato del mondo, se tu stampi soldi non esiste il re che tenga principe o qualsiasi altra cosa. Quindi mi è venuto in mente, per cercare di capire questa situazione, di fare una ricerca sul perché la fotocopiatrice non riesce a fotocopiare gli euro e i dollari, insomma tutte le nuove monete adesso stampate da privati. E ho visto che c'è una serie di stelline e di puntini e di cerchietti sulle monete che si chiama Eurione. Lo scanner ha un software dentro, applicato appunto, creato dalle multinazionali, un egg, cioè un egg è un uovo messo nel software, cioè un software nel software che preleva e verifica questo Eurione che sono una serie di puntini messi in un certo modo, messi in un certo modo, e quindi blocca blocca lo scanner, si blocca la stampante. Questo Eurione, io ho fatto una ricerca su questo Eurione ed è uguale o quasi uguale alla costellazione di Orione. Da qui mi sono collegato a quello che aveva detto Biglino che molti vengono da Orione e quindi presuppongo che chi detiene il potere del denaro venga da Orione, cioè da quelle parti di là, perché non c'è altra spiegazione, non c'è altra spiegazione, se no non avrebbero utilizzato l'Eurione. Allora ragazzi, qui il cerchio si comincia a stringere, Orione, Eurione, piramidi, la piramide, la testa della piramide è staccata, l'occhio onnisciente dirà, aquile, tutto sulle monete, tutto sui soldi, tutto sulle banconote, sia americane che europee. Allora per i più scettici forse è ora di fare qualche ricerca in più sugli alieni? Esistono veramente questi adini? Sono qui in mezzo a noi? Ci governano? Stampano? Stampano i soldi? Non lo so. Governano la nostra economia? Questa è una cosa che viene scritta in molti libri, ci sono stati molti avvistamenti, anche se vogliamo fare gli scettici. Qualche cosa non funziona, qualcosa non va? Dobbiamo per forza fare mente locale e vedere ma chi stampa i soldi? Chi governa il mondo? O forse che cosa governa il mondo? Spectro monedicto.